Noi di Valfrutta siamo una cooperativa che lavora la terra e la terra è nostra Selezioniamo i semi, controlliamo direttamente quello che coltiviamo E la nostra è frutta e verdura di prima scelta che raccogliamo e confezioniamo per voi Così nascono i grandi succhi di frutta, Valfrutta Grazie a tutti